Buon pomeriggio e buon weekend. Un weekend un po' particolare, è l'ultimo weekend prima degli esiti della segna di inclusione. Esiti che potrebbero uscire anche oggi o domani, perché tecnicamente è un sistema automatizzato, non gli interessa molto che giorno di festa è. Comunque lunedì torneremo a parlarne, anzi lunedì parleremo proprio di questo, di questo momento, ma anche degli effetti sciagurati della norma per cui si fanno rientrare i figli nei nuclei familiari, è una roba allucinante. E poi delle voci che stanno girando su come si potrà utilizzare la carta, che sono abbastanza inquietanti, perché siamo veramente a livello dei bambini dell'asilo. Del trattare dei cittadini come sudditi. Ha ragione Bobby, ma non è questo di cui volevo parlare. Oggi lo sapete che nei weekend parlo d'altro. Di questo parleremo durante la settimana entrante. Volevo parlare del caso, probabilmente l'avrete sentito, di Sant'Angelo Lodigiano. Con una premessa. Chi mi segue da più tempo, cioè dai tempi in cui eravamo veramente quattro mesi al bar, sa che per un po', per due mesi circa, abbiamo trasmesso proprio da Sant'Angelo. Era il periodo in cui Jack stava ancora cercando una sistemazione, una situazione un po' critica anche dal punto di vista psicologico. Io ero qui spesso, proprio per tenerlo, per aiutarlo, soprattutto d'estate, quando i corsi erano fermi. Ed è anche il momento in cui ho fatto vedere il mio faccione. Ecco, quel giorno, ecco, hanno chiamato Lancaster Mary, lui è arrivato, ha visto la mia faccia, ha detto, vabbè, ma Pasuso è una cosa, ma questo qui è una roba che non si può vedere. Ed è scappato. Era il tempo in cui c'era la principessa, ecco. Poi a fine settembre siamo venuti qua, a Codogno, e adesso stiamo valutando, anche per un discorso di convenienza, se troviamo uno studio, una struttura ufficio, che si può affittare a per poco, probabilmente sposteremo, chiuderemo tutto qua. Altrimenti pensiamo comunque, visto che qui pagliamo l'affitto, di sistemare tutto un po' meglio, di far diventare proprio una stanza, uno studio un po' più funzionale. Comunque sono cose che succederanno in questi mesi, non adesso. Non adesso, perché tra l'altro mentre ha un altro collaboratore, collaboratrice, ve ne parleremo tra un po'. Dicevo, conosco la zona, conosco la città. Tra l'altro a quei tempi, mi ricordo che una mattina che ero andato da Jack Presto, avevo fatto anche un mini video di un minuto, per far vedere la zona del castello di Sant'Angelo. Jack, l'alloggio provvisore dice che era proprio lì. Usciva, e davanti c'era il castello di Sant'Angelo. Noi ci siamo tornati a visitarlo, anche perché è interessante sia fuori che dentro. Quindi è una località che si può visitare tranquillamente. È il classico paesone della bassa Lombarda. Lo chiamo paesone, non per mancanza di rispetto, perché è vero, almeno abitanti di Codogno, di Casal Pusteleno, ma ha un problema proprio tecnico, non c'è la stazione. Ci si arriva, o con i veicoli, altrimenti con i mezzi su ruote, non c'è la stazione, perché è troppo vicino a Lodi. A circa 7 km da Lodi, in realtà sono 4, ecco. Per cui né Sant'Angelo, che comunque ha 11.000 abitanti, né ad esempio anche lì Pieve Fissiraga, dove c'è un centro commerciale molto grosso, ma non è anche loro la stazione, è troppo vicino alla città principale. Tutto questo per dire che conoscevo la pizzeria. Ci siamo fermati a mangiare. Voi sapete che io detesto, tutta la nostra famiglia detesta i ristoranti di lusso. Ci creano una sorta di reazione inquisitoria. Cioè, se mi fai pagare 50 euro per non mangiare, io uso la tua testa per stile Marv. Vabbè, io no, perché sono più gente di mio fratello, sì. Il mio fratello e mia cognata, sì. Se per 50 euro mi devi portare una bistecca grande come un braccio o l'insalata a modello vasca. No, uno sghirlino, come dicono, uno sputacchino di non ci sa bene che cosa, perché a volte sono talmente impegnati a modificare le cose che quando ti importano qualcosa da mangiare non capisci cosa stai mangiando. E sinceramente a volte guardarla è più o meno come guardare quello che lasciano i cagnolini in giro sui marciopiedi e non è roba obiettivamente appetitosa. Vabbè, la pizza era molto buona, ci sono andati più di una volta. Il locale tranquillo, piccolo, classica gestione familiare, non mi ricordo se avevano quindicina di tavoli, per cui... La signora molto gentile, molto tranquilla. I Sant'Angiolini sono persone molto tranquille, molto tolleranti. Tanto per esempio, se uno va là, troverà che la piazza di Sant'Angelo e i bar della piazza sono quasi tutti gestiti da stranieri. Non quasi tutti, eh. Quindi, sto ancora cercando di capire cosa è successo. Non tanto per la questione della recensione, ma per tutto quello che è successo intorno. Cioè, si tratta di un evento assolutamente irrilevante, che però, per sciacallaggio, poca morale e poca decenza, è stato fatto diventare qualcosa di terribile, con le conseguenze tragiche che ha avuto. Ed è da questo che voglio partire, anche perché, devo dire onestamente, che una persona, che se continuerò a seguirla, però dopo aver visto il video che ha fatto in merito a questo, ecco, il mio rispetto per quella persona è praticamente rasente allo zero. Dicevo, c'è questa recensione? Vera o falsa? Non si sa. Ma stanno indagando le forze dell'ordine, non il primo che passa per la strada. Chi è che ha fatto il debunking? Il compagno della Lucarelli, che di professione fa il cuoco. Che se ne è uscito con una dichiarazione, tra l'altro, con una ipotesi, tra l'altro, basata su una fallaccia. Perché, qui, se avete dei due, potete guardare anche il video di Matteo Ruboli, Vanilla Magazine, però lui ha anche un suo canale personale, ma vi posso confermare quello che ha detto, è vero? Google non ha soltanto un font. Cioè, lo stile di scrittura di Google non è soltanto uno, non ha soltanto un font. Varie da regione a regione, regione intesa come macro-regioni, da stato a stato, varie da cellulare a cellulare, perché su cosa si basa Google? Su Android. Android è un open source, è una sorgente aperta, quindi c'entra dentro di tutto. E anche i font possono cambiare, non è vero che ce n'è soltanto uno. Quindi, quel punto, dire che quella recensione è tarocca, partendo da quel punto, no, non è una prova. Non è una prova. Dire non si riesce a recuperare quella recensione, ok, ma cominciate a ragionare da lì. Però, ribadisco, faccio notare ancora. Se ne stanno occupando le forze delle onde che stanno indagando per vedere se quella recensione era tarocca o no. E se venisse fuori che non è tarocca, ecco, i tizi che hanno fatto i forcaioli, eh, cosa dovrebbero dire? No, perché poi, mentre almeno il compagno Luccarelli ha la posta in modo dubitativo, la Luccarelli la posta in modo statutario, è sicuramente tarocca. Ora, io gli eroi alla Luccarelli non li reggo di base, perché, e voglio dire chiaramente, la Luccarelli con la Ferragni ha avuto una botta di culo. Diciamo le cose come stanno. Ha avuto una botta di culo. Perché lei di grandi inchieste, di grandi smasche... Trovate meno un altro. Cioè, è l'equivalente del tizio che metteva la maschera di Deadpool di un po' di anni fa, che aveva smascherato la roba della balena che si erano inventati quelli delle iene. Ecco, peccato che poi lui non l'avesse smascherato un accidente, avesse copiato da un altro. Vabbè, ma lasciamo stare. Cioè, avere una botta di culo non significa che sia un grande giornalista o una grande giornalista, eh. Vabbè. Ma soprattutto, che coraggio, perché queste qui sono le sue inchieste, no? Questa, questa cosa che è assolutamente irrilevante. Il tizio là, il crowdfunding per il tizio che si era fatto, diciamo, si era fatto assaggiare da Osqualo, ecco. Però, ragazzi, la Lucarelli, l'ha fatta lei il debunking, la minchionata malica, quella che i miei genitori mi hanno buttato fuori, datevi i soldi che mi servono per maniare, me ce mi devo comprare il Mercedes. Non lo so. Io ho sempre visto la Lucarelli come la classica persona che devi fare il bastian contrario per darsi un tono. Perché, essendo priva di reali contenuti, essendo priva di reali capacità, la devi buttare in cacciare. Quindi, non abbiamo la prova sicura che si ha una patacca o no. Ma, e questo è bastato, innanzitutto, per far dire a lei sicuramente è così. Io non lo so. Può essere così, può non essere così, ma il problema è che è assolutamente irrilevante. È bastata per far partire il branco delle pecore a cefale, perché io non so come definirle, perché esce il commento di questa signora a quella recensione e tutti brava, brava, la Lucarelli la sbugiata l'attacca, fa il debunking, come piace a dire loro. Si dice debunking e lo dico per scansi che fa anche finta di non sapere come si dica. Tra l'altro complimenti perché anche lì il coraggio, no? Io poi, non so se ne hai parlato qui, ho visto altri due video. Nel primo, proprio svicola. Nel secondo, dice che ha fatto bene, loro non sono responsabili di niente e può anche essere vero. Tra l'altro, anche qui, la qualità morale, la Lucarelli e non solo lei, quello che sto per dire dopo, che mi fa notare eh ma c'erano dei pregressi, proprio mezzi bassi, di bassa qualità, di bassa lega per etichettare una persona e e almeno Scanti dice sì però il post che ha fatto è totalmente glaciale, freddo, priva di empatia. Almeno lì ci sei arrivato. Il fatto che lei nel post dia per statutarie cose che non lo sono, cioè ci sono delle indagini in corso, ci sono delle indagini in corso e lo dico non soltanto in merito a Lucarelli Scanzi ma anche quella branco di pecore commentatori, commentatrici da social che eh ma c'erò, c'erà c'erano sangue non sei un cazzo, non dare per scontato non sei un detective, non sei un esperto, io per scontato non sto dando niente, sto dicendo se ne sta occupando la magistratura che ne sa sicuramente più di me e sicuramente più di quelli che hanno commentato ma sicuramente così cosa ha fatto di male ha fatto diventare un caso rilevante un caso nazionale ha dato benzina a quel branco di pecore a cefale che tutte le volte che un montone bella gli vanno dietro e in questo caso avete dato la dimostrazione più squallida di questo perché prima l'avete elogiata questa signora poi gli siete saltati alla gola con un branco di lupi e poi quando è uscito quando è accaduta la tragedia perché è una tragedia siete saltati alla gola di chi aveva creato il casino ma non era meglio all'inizio dire subito all'ucarelli e un grandissimo esticazzi che sia vero che sia falso cosa cambia niente però vi faccio notare che immediatamente poi è partita l'altra porcilaia la porcilaia più fetida perché dalla Lega sì subito e chi ha detto la colpa è vostra che avete cominciato voi la Boldrini io tutte le volte che sento e vedo la Boldrini capisco perché il femminismo woke è una barzelletta perché quella ve l'ho detto per la gente come lei per la murgia così la lotta per i diritti che comprende che è un'altra parola che loro però si dimenticano i doveri si limita alla facciata loro non vanno mai nel fulcro del problema come in una trasmissione americana che si chiama whatever con il commentatore che ha una che continua a menare così dici ascolta tu dici che gli uomini servono a zero ma chi è che ha tirato sui grattacieli chi è che fa determinati lavori soprattutto riferendosi non tanto a quello che succede da noi perché da noi la divisa la portano ma a quello che succede nel paese di Zuzu gli uomini sono rimasti lì tutti fino agli uomini di età compresa fra i 18 e 60 e 65 anni adesso non so comunque fino ai 60 anni le donne sono potute andare via perché non sono rimaste lì anche loro perché è comodo parlare di diritti ma se tu vuoi diritti ti prendi anche i doveri e se tu vuoi la parità ti prendi anche quel tipo di rogna della parità cioè accetti di fare lavori potenzialmente pericolosi che tu non vuoi fare perché la generazione Z di questa parla dormiente è la generazione applaudita ovviamente da quei walkisti da discount di fanpage becca mortari che oddio lavorare otto ore al giorno cinque giorni alla settimana è uno stress terrificante ah no io io me ne vado e chi ti mantiene è i miei genitori è ovvio io intanto aspetto di trovare la fonte di ispirazione della mia vita sì ho capito ma se i tuoi genitori non possono mantenerti che cazzo fai e no perché sembravi tutti a stare appoggiati sulle spalle di qualcun altro però questa qui è la generazione futura secondo il dormiente si vede proprio che dorme quindi io sono un'ugualità io ho convinto uguali diritti uguali doveri io me ne sbatto chi va davanti quello che mi fa incazzare è proprio questo modo di ragionare che si parla sempre non si parla mai dei doveri vuoi la bicicletta sappi che la bicicletta ha le ruote ma anche i freni e anche i pedali non si muove da sola vuoi i tuoi diritti giustissimo ti prendi anche i doveri non puoi prendere solo quello che ti fa comodo non puoi dire non mi danno come quelli là anche se quelli là magari sono fatti un mazzo tanto e tu sei una sola che non sa neanche da che parte girassi perché c'è anche questo aspetto veramente a sentire in guarda la visione delle ragazze che letteralmente non sanno un cazzo sono più sono ignoranti come un posteriore di capra però ti dici ma dovete pagarmi la stessa cifra su quali basi? perché sei perché appartiene in una categoria ma se io prendo te e mi manda in vacca l'attività sai quanto cazzo me ne frega del fatto che tu appartieni in una categoria? ecco questo qui è il femminismo delle boldrini il femminismo delle boldrini che con la vicenda c'è che ti con quello che è successo invece in un altro paese a una a una donna e lì no lì sono le usanze le usanze lì non va in piazza come fece notare Bill Maier ma non soltanto lui gli eroici colonialisti del paese d'Albione sono venuti in piazza a scassare le balle per noi e sinceramente fa ridere i pollici a uno gli ha fatto una realtà andate con le vostre bandiere in arcobaleno là in quei paesi a sventolare e poi contiamo i secondi che ci mettono tra il momento in cui la sventolate e il momento in cui vi sventagliano con qualcos'altro e se avete culo e vi sventagliano non vi portano in qualche stanza buia a far giocare ai quattrocantoni perché proprio non sanno assolutamente di che cosa parlano però per quello che è successo in Yemen che tra l'altro poi cazzo c'entriamo noi con quello vabbè per dire come la complessità del Medio Oriente che invece in Europa viene diciamo liquidata in modo in un semplicismo imbarazzante perché perché dietro c'è un'ignoranza imbarazzante per i kurdi mi sapevo i coglioni per la minoranza nel paese con la bandiera rossa e la stella mi sapevo i coglioni anche quelli per la Libia per l'Egitto per quello che hanno fatto lì i porta facette facette verdi nel dubbio che potete leggere il libro di Travaglio ecco è un libro su cui sono mancano alcune cose ma non è non ha la pretesa di essere un testo completo ma di essere un bigname in questo senso ecco poi però consiglierei Travaglio informati tu perché se devi ascoltare l'ossetto lavatore quello eh di cazzate mi sembra che ne dica un bel po' tra l'altro una ci arrivo tra poco vabbè quella sulle comunicazioni noi abbiamo abbiamo flarrato l'intera zona cioè non passavano ostrega secondo lui stava a comunicare se non si metteva in mezzo una minchione di mask non manco i telefoni funzionavano e il sistema che lui ha attivato che poi gliel'ha tolto perché lui è fatto così cioè mask è uno è una labirintite nella testa che poi gliel'ha tolto ma funzionava solo per certe cose non per altre sicuramente non per chiacchierare con gli ossetti lavatori vabbè dicevo da boldrini che si incazza l'avete messa giù voi allora anche qua c'è sempre il problema di chi di chi c'hai davanti e delle capacità di dialogo per quello io ritengo che una delle cose migliori delle nostre università sono i seminari che sono dei dibattiti però tra l'altro quando avete questo io lo sto registrando il venerdì con una seconda una seconda girata sabato per un paio di controlli ulteriori perché tra due settimane avremo dei dibattiti noi io quelli non rinuncio a meno che proprio non sia ridotto da buttare via i dibattiti che già ho visto visto che si tratterà della transizione tecnologica dal punto di vista militare tra le guerre napoleoniche e la guerra civile americana argomento che a me piace un casino uno di questi l'altro addirittura guardiamo invece il conflitto nel conflitto nel mediterraneo durante il secondo conflitto mondiale dicevo lì il docente non sta sulla cattedra deve difendere le sue idee con gli argomenti questo ti insegna a dibattere a combattere perché i tuoi studenti vengono dentro letteralmente con un branco di iene sono lupi perché se tu sei bravo nei dibattiti ragazzi dal punto di vista delle valutazioni hai un impatto molto più alto che magari rispondere bene a un test perché il test va bene impari le risposte ma reggere in un dibattito vuol dire che le sai motivare e le sai confrontare con gli altri dicevo la Lega ha sempre parlato un determinato tipo di pubblico quindi un determinato tipo di linguaggio è funzionale alla Lega potete trovare lo volgare eccessivo pagliaccesco quello che è ma è funzionale a un certo tipo di messaggio certo Salvini ha toccato il fondo in questo senso perché si facevano battute sulle minchiate di Bossi ma Bossi dietro alle minchiate aveva una sua idea aveva un suo progetto una sua progettualità questo qui è una banderuola che non finisce più ma la domanda che aveva fatto io l'avoltrinato bene lui parla in quel modo e voi come parlate? no perché voi dovreste essere il partito che parla agli operai che parla ai proletari che parla agli invisibili che parla agli ultimi ma voi non ci parlate più con queste persone avete una tale puzza sotto il naso che veramente sentireste una scorreggia a un chilometro di distanza voi non parlate più al proletariato voi parlate all'alta borghesia parlate alla gente che piace sui social altro che quello che ha detto qualcuno anzi ma non è vero che la Ferragni non è vero non è vero la Ferragni non è vero Fuxas non è vero Boeri l'architetto non quello che dirigeva lì non è vero una reggimentata di minchioni che piacciono a voi non so quello che faceva i dipinti murales così che poi vabbè non era più simpatico perché non era più non diceva le cose che piaceva alla gente che piace ragazzi vi siete scelti una categoria di gente che non ha il problema di mettere insieme il pranzo con la cena e voi parlate a quelli non parlate più al proletariato usate parole alte perché non volete sentire la puzza del passato sto citando lo spettacolo di balasso e passato intendo che non volete più parlare i poveri non volete più parlare i proletari e la Boldrini ne ha l'esemplificazione perché per lei è più importante la lettera finale di una parola che il senso di quella parola un medico non diventa bravo perché ci metti la O o la A diventa bravo perché ha studiato cioè in Italia in cui c'è bisogno di medici le università hanno i corsi d'accesso che letteralmente sono laghi come il culo di un picchio le strutture la sanità è devastata tutte le volte che c'è si taglia lì e tu ti vieni a preoccupare di cosa mettere la A quella è la realtà di questa gente snob borghesi alto borghesi con la puzza sotto il naso più impegnati ad apparire che ad essere questa è la vostra essenza la volgarità del linguaggio chi è che l'ha lanciato il sasso la stessa persona che adesso lei e il compagno si lamentano perché la valanga gli è tornata indietro bastava non attivarla questa valanga bastava non cercare il caso sensazionale il sensazionalismo un tanto al chilo tipico delle persone che non hanno spessore io non pretendo di avere davanti Votor e Bernstein ma porca miseria neanche neanche un giornalista di Libero arriva a quei livelli eh bisogna avere il coraggio di dirlo eh perché poi cosa succede che Scanzi deve difendere la Lucarelli e come io cosa vi ho sempre detto non è perché uno che mi sta sulle balle dice una cosa giusta allora gli devo dire che sbaglia se uno che mi è antipatico dice una cosa esatta io dico tranquillamente quella persona ha ragione in quel momento ragazzi questa cosa mi ha spinto a dar ragione a non sfigato al mangiare a vale retro l'aglio cioè mi ha spinto a dar ragione a Sallusti guardate che è una bella che è un'impresa ma le considerazioni che ha fatto Sallusti che sapete che mamma mia c'è io per Sallusti sono Valencing sì ma quello quel blindato che utilizza le tira le croci direttamente da una tonnellata dietro cioè io con quella banda lì non ne salvo mezzo ma porca miseria mi tocca dargli ragione e perché mi tocca dargli ragione forse la Burseli Burseli mi ricordo sì vabbè anche lei come militante però qualche osservazione detto io non do torto a uno perché non è dalla mia parte politica perché l'ho superata l'età del ciuccio in bocca del gne gne quello là è brutto e cattivo perché non la pensa come me che è più o meno il livello di argomento attivo dei woke ecco cioè mi tocca dargli ragione ma ti rendi conto ti rendi conto che magari se la signora Puzzarelli non cercasse il caso scandalistico perché se no di lei non ne parla nessuno ragazzi la considerate una giornata fa la giurata X Factor se a X Factor ci mettono quattro scimmie bonoburiache o i giudici che ci sono adesso cosa cambia niente qualitativamente niente questa è gente che giudica il lavoro che fanno altri mentre loro il lavoro non lo sanno fare sembrano i vecchietti che vanno a scassare le balle davanti ai cantieri no? eh va lì scusate il dialetto basso lodigiano ma è quello che sento qui guarda lì guarda lì eh ma quando c'erano i suoi tempi c'erano i romani che tiravano su eh tiravano su gli obelischi stile i dieci comandamenti di De Mille ecco cioè per favore questa è diventata popolare letteralmente cercando sempre il caso scandalistico e tra l'altro ha avuto anche la tolla la faccia di tolla di criticare le iene per carità le iene sapete quello che penso cioè quello non è neanche quello il giornalismo dicendo che facevano gogna mediatica facevano scandalismo facile e lei cosa ha fatto la stessa identica cosa scandalismo facile gogna mediatica e è scoppiato il petradone in faccia che cazzo pretendi ma se poi sei così coraggiosa perché una presentazione di un libro una giornalista gli ha fatto stesso trattamento e lei cosa fa ma non è il momento di parlare bisogna parlare del libro della mia amica che non si ferirà nessuno non se lo leggeranno manco quelli che l'han stampato forse quelli si per vedere quante minchia cioè chi se ne frega te lo sai che se vai lì la gente ti farà quella domanda e della tua amica non importerà una mazza le dinamiche della comunicazione dell'interesse sono quelle cioè l'ha costruito lei e adesso si gratta la rogna cioè era una cosa irrilevante in un senso o nell'altro e l'ha fatta diventare qualcosa di epico per i suoi interessi quindi anche quelli che dicono eh però adesso arrivano gli arriva adesso di tutto bisogna lei dovrebbe come ha detto un tizio dovrebbe far causa ma che cazzo fa bene cosa lei ha creato il problema la reazione che sta subendo è semplicemente colpa sua ha sciacallato sul niente e adesso la rogna gli sta arrivando tornando indietro cazzi suoi perché poi anche qua si cerca un conto quello che ha fatto un conto la persona sì ma nel suo caso la persona è quello che ha fatto perché se avesse avuto un filo di decenza quel post schifoso che ha scritto dopo la tragedia non l'avrebbe scritto cioè tu dimostri una totale assenza di empatia di umanità però visto che la cosa stia tornando addosso ti metti e mi dicono questo e mi dicono quello e chi se ne frega tu come ti sei comportato attraverso quella persona arrivando a fare certe insinuazioni tra l'altro bene ti sei comportato così adesso cosa pretendi che veniamo a dirti eh ma sono tutti cattivi quelli che se la prendono con te no io me ne ho detto il discorso che aveva detto da me la scenetta commovente della Ferragni non ha smosso un grammo stessa cosa qui perché la causa di tutto siete voi prendetevi la responsabilità di quello che fate e qui viene fuori il problema perché ho visto il video di Masara in cui dice che arriva la ricerca della verità va fatta sempre non importano le conseguenze e no caro Masara le conseguenze contano perché la ricerca di una verità assolutamente irrilevante assolutamente inconsistente ha prodotto una tragedia per cosa per permettere a una persona di sciacallarci sopra di guadagnare fama di guadagnare like di guadagnare eh popolarità e poi di fregnare perché questa cosa gli si è ritorta contro secondo te queste non sono conseguenze di cui uno dovrebbe tenere conto non stiamo parlando dei watergate non stiamo parlando del caso Ferranjez non stiamo parlando di un caso di rilevanza nazionale di qualcosa di terribile stiamo parlando di qualcosa di assolutamente irrilevante e fatuo a meno che non si debba fare questo ragionamento perché quel post toccava a voi uochisti perché a voi se appena appena vi toccano la parrocchia mamma mia io immagino già che meccanismo mentale che ti può essere girato questa qui ha sfruttato determinate cose e allora e allora cosa perché voi non l'avete mai fatto perché voi non fregnate dicendo inventandovi fobie o attacchi personali anche quando non ci sono perché tutte le volte che si fa una critica verso di voi la prima roba che vi viene in mente di rispondere ismo siete isti no io ti tratto come tratto tutti io me ne sbatto le balle del tuo orientamento sessuale della tua fede non me ne frega niente proprio perché io rispetto quello che sei come persona non me ne frega una beata mazza io non do rispetto a una persona perché la pensa come me io do rispetto a una persona perché si merita rispetto dipendesse da me i due schifosoni americani uno è dentro l'altro è nato a margherite ma li avrei tranquillamente mandati io tutti e due a concimare l'erba non me ne frega niente se appartengono al mio gruppo cioè a me la battuta che ha fatto Gervais mi ricordo ma il nome d'attore scusatemi da un buco di memoria in questo senso Christos Balz quando per l'indogio sbasta gli fa tu facevi la parte dell'ufficiale camminatore di papere che va in cerca della mia gente poi Gervais lo guarda gli fa ecco la vena madre per dire che ho la voce siamo una valanga ecco io mi sono piegato da ridere io non ho questa questa idea ma tra di noi no tra di noi una sega se sei uno schifoso sono schifoso io me ne sbatto veramente ma allo stesso modo pretendo che si debba ragionare invece tutte le volte che c'è qualcosa che riguarda voi immediatamente ahhh vergogna ce l'avete con noi ismo ismo siete ismi siete tolleranti voi invece siete i campioni della tolleranza tutte le volte che dovete affrontare un dibattito porca miseria è più facile far capire qualcosa a un tronco di pino che a voi voi non avete un cervello ricettivo avete la sugna dentro avete una spugna una spugna in cui hanno messo un ricevitore in cui il ricevitore lì vi fanno ascoltare a nastro le stesse frasi e voi le ripetete a pappagallo tra voi e i minchioni che incrociano i pugni in 1984 appena vedono la faccia del grande fardello e l'ho detto apposta sbagliando qual è la differenza anche quelli accettano quello che viene detto senza argomentare quando devono argomentare non sanno come fare è un trend unico tutti non li vedi non sono in grado di affrontare un dibattito appena li prendi e trovano uno che sa argomentare vanno in vacca tra l'altro mi è capitato di vedere proprio l'ultimo video di Mr. Massi in cui c'era uno andava a citare penso che se guardasse i barbi chiedo scusa ma proprio non stavo guardando il video lo stavo solo ascoltando e uno dice ben Shapiro che poi è stato ridicolizzato da chi l'ha ridicolizzato testa nemica tra l'altro non mi sembra che fosse la persona che ha attaccato più duramente quella specie di polpettone rosa pieno di messaggi conformati a una determinata ideologia eh l'hanno attaccato in tanti ne hai citato uno a caso e forse hai citato quello più sbagliato perché non è proprio il suo campo mi sembra che si stia occupando di tutt'altro Shapiro adesso comunque e in questo caso vi invito ad esempio a guardare l'ottimo video che ha fatto Greg io l'ho fatto tempo fa mi dispiace che Mr. Messi non l'abbia visto ma anche quello di Mr. Messi è buono ecco tutti e due perché ha fatto anche la collection delle reazioni ed è lì ho visto alcuni che veramente alcuni commentatori che non si può neanche dire che sono azzerbinati perché lo zerbino a loro confronto all'aspira dorsalina davanti sentire una persona che dice la verità soprattutto così a me ha fatto venire in mente Savonarola l'inquisizione spagnola tutta gente così eh tutta gente così in fondo che ha quelli che scrissero il Malleus Maleficano vabbè il martello delle stre vabbè per dirlo e qui devi stare dicendo anche le parole ecco in quel libro che è una vagonata di minchiate che metà basta no cui ci sono anche perle per cui secondo loro le fattucchiere uso questo termine completamente sbagliato ma se portavano a giro a scatoletta con dentro i cefali come li chiamava Pozzetto in 7 chili in 7 giorni i cefali per il sollazzo personale ecco io mi sono sempre chiesto gli autori di quel libro cosa cosa si erano tirati su cioè ma rispetto a loro Bob Marley era un trappista eh cioè per scrivere quella valanga di roba questi qui eh cioè Tony Montana è un seminarista rispetto a questi qua questi andavano in cari Tony Montana vedete la scena in cui puccia il muso no il dialetto mette il naso alla parte finale quando è proprio fuori testa nel sacchione nel saccone nel saccone scusatemi di farina ecco rispetto a quelli che hanno scritto quella roba lì quella roba la tirano su un colpo solo e mai in cosa sentivano eh Tony Montana per loro questo che è un dilettante vuoi vedere come si fa e leggiti cosa abbiamo scritto e poi capisci ecco eh io ce li vedevo bene loro due Bob Marley in mezzo eh che stavo ad ascoltare le loro spiegazioni come fare veramente a fumarsi l'infumabile e eh giuro in quel momento quella frase mi ha azzerato quasi completamente rispetto per Masala perché non si può non è accettabile dire che la verità tra verità tra l'altro che non è ancora definita perché è realistico dice lui io non sto non sto né da una parte e dall'altro dico solo che per una vicenda assolutamente irrilevante una persona non c'è più e non c'è più a me non interessa sapere quale quale meccanismo cioè se la responsabilità di Tizio di Caio ma come lavoro di mia moglie che ne capisce molto più ne capisce molto più di me ma ne capisce abissalmente più di Masala ci sono dei meccanismi ci sono dei trigger mettiamo che una persona sia in un determinato stato emotivo e questa cosa abbia fatto da trigger e le responsabilità ci sono e non accetto il discorso la verità soprattutto perché questo è un discorso che a me ricorda un po' troppo certi test di cazzo che dicevano ah la ricerca soprattutto sì e infatti si è visto come le facevano le ricerche se vuole gli faccio leggere un attimo come le facciamo un certo Mengele le ricerche perché la posizione è la stessa la verità soprattutto anche se questa verità non produce nessun effetto positivo ma produce solo effetti negativi a cosa è servita a farti sembrare più pulito del pulito ma lo sai veramente ma veramente pensi di poterti ergere soprattutto gli atti dalla lezione di etica e per dire continuerò a guardarlo ma ormai ve l'ho detto ormai ho visto da tempo che la china uochista stava aumentando ma poi se ci arriva a questi livelli in cui letteralmente non valuti il peso di una vita umana rispetto a una bagatella a una scemenza a una cosa che dal punto di vista reale ha lo stesso peso delle possibili delle possibili fantasie dei bambini veramente sei a questi livelli veramente vuoi fare il Savonarola no perché il Savonarola non ha fatto una bella fine perché poi ho visto ho detto mi sono voluto guardare veramente il confronto Masala Travaglio ora l'epica i fan di Masala Parocchiuti anche qua evidentemente asfaltalo Masala che asfalta Travaglio l'avevano dipinta una roba l'ha dipinta lui in un certo senso uno scontro stile Kenshiro contro Rao Godzilla contro Ghidorah che ne so Ettore contro Achille in realtà è stato Bud Spencer contro Erporaccio che generalmente nei suoi film li prendeva sacca in asporta e Masala non era Bud Spencer mi ha ricordato un po' l'andamento della cosa lo spezzone adesso non ricordo se lo chiamavano Trinità o continuavano a chiamare Trinità quando c'è il branco dei bandoleros rincoglioniti che vanno sempre a menare quelli della comunità lì dei mormoni dei quaccheri così e c'è quello il grosso che vede Bud Spencer e dice questo non l'ho ancora menato Ietirana sberla Bud Spencer manco se piega Ietirana botta su e lo smonta l'italiano l'ho imparato anche grazie a loro come l'ha detto anche Bob Ampeso per cui hanno avuto un'importanza enorme in questo senso questo ci tira su dice all'altro dai menalo l'altro da un buffetto lui tira un'altra trinca al capo lo tratta più o meno ecco mi ha fatto venire in mente quello cioè ma è un'area più a schiaffoni da travaglio ma porca miseria ma tu vai contro travaglio e non hai la capacità dell'aggressione verbale della lotta in arena ve l'ho detto ma glielo ecco nonostante l'erperta di rispetto io ti inviterei volentieri nei nostri dei nostri dibattiti non i dibattiti che fai nelle live in cui te ne stai con la tua poltroncina e quindi sei in una comfort zone no ti porterai uno dei nostri dibattiti all'università in cui ti metti lì e questi ti saltano la gola lì devi essere Conan quando esce lo svarzi quando uscirà dalla tomba dell'antico re con la spada con i cagnoni sotto ecco devi essere così perché non è che ti vengono addosso per urlare dietro non ti vengono addosso con gli argomenti cioè ti attaccano con la conoscenza e sono cazzi amari se non reggi tu non hai le capacità umanamente di reggere il confronto con uno che si è fatto le ossa combattendo contro mostri della comunicazione come il fusilvio perché si può dire di tutto del fusilvio ma come comunicatore era eccezionale e questo lo riconosce anche Travaglio che li riconosci anche una cosa li riconosce che era simpatico quello che vi ho detto io nel video di commemorazione la persona era quello che era ma non li si può negare la simpatia umana che riusciva a trasmettere l'empatia la capacità e se la riconosci uno dei suoi più duri avversari ci sarà un senso no? io ho visto Travaglio che tra l'altro Furbo ogni volta che Masa l'abbassava ci andava dentro e gli parlava sopra perché dall'altra parte non c'erano gli argomenti quindi ti ha rintuzzato in tutto e per tutto in tutto tu dicevi una cosa e lui te la smontava ti ha disintegrato sul tuo iperamericanismo per cui per te quelli da stelle strisci sono hai citato la cultura americana quante volte vi ho detto che gli americani sono il popolo più ignorante del mondo penso di aver guardato una quarantina di volte lo dico perché non è tanto per dire lo dico perché in realtà lo dico perché in realtà poi certo per dire che l'ignoranza ecco in caso degli americani l'ignoranza è strutturale poi vabbè ragazzi per dire che poi l'ignoranza è un'infezione mi è capitato di vedere un video di un canale che non suggerisco l'ho visto così per caso perché era in Dazpo in cui c'è una che dice parlando di Ofra del retaggio della sua amicizia con un vistino che sapevano anche i sorci quello che faceva ma non è quello ma insomma noi debito con gli americani questi sono utili di cui sì perché noi abbiamo fatto noi riferendosi al regime del mascellone e a quello del caporale boemo abbiamo fatto degli errori abbiamo fatto degli errori nei confronti di noi di noi insomma della mia gente ecco definire quello che ha fatto il mascellone e il caporale boemo degli errori e che cazzo ti rendi conto che c'è una lieve di sproporzione tra la parola errore e quello che hanno fatto quei due no perché se per te quello è un errore vorrei sapere cos'è per te un crimine atroce come quello che hanno fatto cos'è devono scendere i quattro cavalieri forse allora lì ci siamo vabbè scusate la digressione ma veramente non si poteva sentire questa cosa ti ha pettinato su tutti gli argomenti tutti e tu non sei stato mai capace di sfruttare i punti in cui ci poteva essere un cedimento uno ve l'ho detto nel momento in cui hai citato l'orsetto lavatore lui dice è un picco della mirandola meno male che il picco della mirandola non aveva veramente la memoria di questo qua perché con tutte le puttanate che ha detto in determinati ambiti e ci sarebbe da stare allegri perché ribadisco è qui ho detto io lo dico la patacca che disse già ai tempi di Zuzu che lui aveva gente che gli mandava le mail gli scriveva così potrebbe risparmiarsi perché ve l'ho detto da noi quando è iniziato il casino se non era per quelli in piccione di Musk che poi ha cambiato completamente banda anche perché gli hanno fatto diciamo nel momento in cui qualcuno gli ha bussato la patacca ah tu stai facendo questo stai aiutando quei tizi là benissimo sai cos'è io la pubblicità sulla tua cazzo di piattaforma non ce la metto più e cominciamo a togliere uno cominciamo a togliere due quando hanno cominciato ad essere 7-8 e il consiglio di amministrazione stava già preparando il palo sulla vaselina e allora ecco ha tirato via tutto ma vi posso assicurare che non serviva per la comunicazione spicciola quindi non passava un cazzo cos'è si erano fatti prestare il satellitare da un giornalista per parlare con questo qui con quello che dice che voi italiani voi italiani per lui siete un popolo di ignoranti lo dice lui io sono qua a educare gli italiani oh sgasati perché l'ultimo che ha detto quella frase poi è finito diciamo così a fare l'imitazione del baccalà attaccato ad un'ex pompa di benzina ecco questo vabbè cioè tra l'altro quando dico che uno vuole fare la sceneggiata sarebbe bastato che invece di dire che il caporale boemo non voleva il conflitto dire che effettivamente c'era qualcuno in quel governo che non lo voleva ma non era il caporale boemo era il Riccardo III di Germania eh il ministro della propaganda perché a strillare da un palco non si fa fatica a fare i grossi i gonfi non si fa fatica ma non è che la Wehrmacht ha fatto una passeggiata comunque le perdite le ha avute in Polonia le ha avute in Francia le ha avute in Norvegia a Creta si è fumata la divisione dei paracadutisti perché non l'ha più utilizzata in quel modo non si è più azzardata a utilizzare l'intera divisione in una singola operazione le usavano come fanterie delito o in operazioni estremamente limitate tipo andare a recuperare il mascellone ecco cioè capite ci sono cose un po' diverse già lì bastava dirgli oh se c'era uno c'era uno a cui piaceva fare il grosso tra l'altro poi il mister di Riccardo III di Germania nel momento in cui però il conflitto esplose finché si vinceva ma nel momento in cui si è cominciato cioè dopo l'operazione cittadella diciamolo letteralmente si cominciavano ad avere un po' di strizzerculo lì diventò l'impiuncarognito di tutti in termini dialettici di propaganda di totale spregio delle persone diventò il peggiore di tutti peggiore del caporale boemo no ma in termini del suo entourage dicevo cioè lo sai che è un antimericanista e tu gli dai tu sei un americanista è ovvio che non ti è mai d'accordo ma la cosa che mi ha fatto letteralmente ha cercato di inserire politicamente travaglio ora io posso dirti una cosa caro Masala perché non soffrendo non avendo il problema del famboismo non avendo la mitologia di qualcuno cioè nel senso che io ho sempre ritrovato tantissimo la figura di Mandela ma so benissimo che aveva i difetti come li hanno avuti e come ha fatto benissimo tra l'altro la parte finale in cui lì letteralmente dava Masala dava ragione a travaglio su ogni cosa ma perché il libro che ha scritto in merito il bignami perché è sostanzialmente un bignami molto conciso su quello che sta succedendo da noi io non sto a smentirlo perché il 90% di quello che è scritto è giusto il 10% che non è giusto non è perché è sbagliato è perché ci sono dinamiche ragazzi ribadisco io ci sono nato ci vivo e vi posso dire che capire la mentalità dei medio orientali da parte di uno che non è medio orientale è un decimo grado perché non ragioniamo nello stesso modo abbiamo altre idee ecco se tu prendi un personaggio come chi sapete come il suo inoide e già gli metti all'interno una tipica tara del concetto di revenge alla cosacca che lui è difficile poi avere un buon politico così eh come giustamente ha fatto notare travaglio su questa cosa tra me non la cita è una cosa che capiamo noi perché siamo in quelle dinamiche le conosciamo quelle dinamiche ma per il resto il fatto che Abbi ha citato leader che hanno provato pur essendo dei pezzi di eh perché Arien Charon Arik è testa di ferro cioè lui l'ha descritto sì come un generale ma a parte che ci ha fatto ha fatto venire una strizza al culo ai suoi uomini perché nel Kipur lui cosa fa passa il canale lui è uno che passa il canale e se non lo prendevano per la colotta dicendo guarda Washington e Mosca ci ha detto basta cioè lui vuole andare al Cairo a fare una tonnara cioè però quel salto non era stato autorizzato dall'alto comando cioè ha messo in pericolo tutte le sue unità perché lui era invasato ecco però Arik personaggio che era ma ci ha provato cioè non è tanto fanatico tanto quanto è fanatico questo cioè questo è il peggio del peggio i leader che cita Travaglio andatevi a guardare che leader sono il loro passato e andatevi a guardare la reazione di quelli che per certe teste di minchia sono gli eroi qualcuno poi dovrebbe spiegare magari lo spiegherà la Jalapas ha l'eroe che faceva tutto per la sua gente quando è andato dall'altra parte 600 milioni aveva imboscato non 600 euro 600 milioni quei soldi chi è che gli eleati non dovevano servire per la sua gente ma vabbè ecco la cosa che mi ha fatto spanciare però è il finale quando tentando di incasellare Travaglio ribadisco stai parlando con un leone di razza che è abile nei dibattiti porca miseria quando ti ha citato Montanelli tu invece di apprendere lì veramente e morderlo io vorrei ricordare ecco dai hai ovviamente ha ragione devo citare mister Massi ha ragione ai pidioti perché non so come definirli che noi quel tizio lì a noi faceva schifo all'ennesima potenza ci dava il vomito lo consideriamo il peggio del peggio poi litiga col fusilio e diventa il nostro eroe cioè ci siamo calati noi i pantaloni lui non ha cambiato modo di pensare siamo noi che l'abbiamo preso e l'abbiamo messo sul piedistallo perché? perché volevamo un ennesimo santino bel santino di merda che ci siamo dati io quello che ho dato a Travaglio è una cosa molto semplice va bene il tempo perché la scusa è sempre quella il tempo le consuetudini le idee così perfetto benissimo tutto rimane un concetto di fondo tu hai una tua etica che non è relativa al tempo hai una tua morale che non è relativa al tempo se uno ascolta le interviste del signor Montanelli relativamente a quella a quello che ha fatto in Etiopia e a come parla di certe cose mi devi spiegare dove sarebbe l'etica dove sarebbe la consuetudine o meglio perché io devo accettare che siccome è una consuetudine io devo comportarmi come l'ultima delle merde perché qui non si sta discutendo lo so benissimo il modo in cui si pensava in quel tempo ma il fatto che si ragionasse in quel modo non implica che tu non debba avere adesso un moto di rimorso o soprattutto non implica il fatto che se tutti ragionano in quel modo tu debba ragionare in quel modo e per chiudere cosa che hai detto trovate se quella ragazza avesse avuto una pigmentazione più simile alla tua travaglio secondo te che fine faceva il cilindro per me lo portavano in piazza a campo dei fiori e lo ingrassavano col catrame e poi partivano le fiaccole questa è la realtà non c'è una giustificazione morale dicendo era consuetudine del tempo che poi non è vero non è vero non era consuetudine fare quella cosa era purtroppo consuetudine avere una classificazione in categorie rispetto a queste cose cioè l'idea stessa dell'ismo era fortissima non è che adesso era fortissima ma questo non implicava quel tipo di atteggiamento e non me ne frega niente se i genitori sono corresponsabili perché è la tua coscienza che ti deve mettere in ballo la mia coscienza avrebbe fatto venire il vomito sì la portavo via quella ma la portavo via per trattarla e tenerla come si tratterebbe una persona di cui ti vuoi prendere cura ma finisce lì finisce lì io ti aiuto ti do i mezzi per studiare ti do i vestiti ma non voglio altro non voglio niente da te mi devi stare anche a 4-5 metri di distanza perché non voglio che ci siano idee strane ti tratto come un'amica che ha bisogno questo dovrebbe essere il principio se hai una persona in difficoltà puoi emergere puoi diventare qualcuno io ti do tutto l'aiuto possibile ma è quello e basta non voglio altro e non voglio niente in cambio ma dicevo ti sei fatto in finocchia su due cose è libero uno sul fatto che non abbia gratificato le ONG Travaglio ha detto una cosa verissima un conto sono quelle meritorie che stanno in mare ad aiutare la gente altro sono quelle che fanno i taxi che si piacciono in determinate posizioni che sono in contatto con quei rifiuti di colatori fognari che trasportano la gente e che letteralmente si mettono d'accordo per completare il percorso lì è un'altra cosa lì è un altro mondo è un mondo completamente diverso è un mondo in cui la cosa importante è l'argento e l'altra le altre due cose ragazzi uno sul discorso della pezzurogacy per dirla come con gli amici di Luca che gli ha detto se è tutto gratis bene non ho problemi ma se c'è anche un solo movimento di denaro no no perché si presta a una questione speculativa coercitiva e altro e anche lì nasa da palato e la terza cosa sulla questione dei trattamenti sanitari per le appresunta disfruire di genere Travaglio ha detto maggiorenne nessun problema se non sei maggiorenne no aspetti di essere maggiorenne che è quello che penso anch'io perché allora uno è una questione di responsabilità personale cioè il maggiorenne se la prende lui la responsabilità se la prende lui perché se poi cambi idea guardate che non è che si fa retromarcia si torna il danno cioè tu lo fai e poi cambi idea il danno in molti aspetti è irreversibile cioè non non puoi più tornare indietro quindi devi essere ben cosciente di quello che fai devono essere tue idee tue convinzioni e ti assumi la responsabilità non la deleghi a qualcuno che non la può avere legalmente e l'altro aspetto è che qualcuno dovrebbe spiegare ai mas agli zanni a tutti questi walkisti fanatici come fa un ragazzino di 7 8 10 anni ad avere già cognizione di questo tipo chi mi dice che quelle idee non arrivino non dalla sua testa ma dai genitori cioè che questa decisione non sia altro che una decisione manipolata dai genitori per seguire il loro fanatismo perché un maggiorenne decide lui ma finché la tutela ce l'hanno i genitori e i genitori decidono che secondo la loro mentalità tu devi essere così poi il danno lo paga sempre il ragazzo o la ragazza ve l'ho detto la procedura non è reversibilissima sono poche cose reversibili sì effettivamente si può fare una totale reverse quasi totale ma ragazzi non è non esci in buone condizioni quindi io sono perfettamente d'accordo nel momento in cui la maggiorità e hai preso coscienza di quello che vuoi fare lo Stato ti deve aiutare in tutti i modi io l'ho detto ma fino a che non puoi prenderti la responsabilità direttamente e non si capisce chiaramente che è la tua volontà è la tua scelta sono le tue idee e non quelle che ti ha messo nel cranio qualcun altro qualche fanatico o fanatica di turno no e più minore l'età più alto c'è questo rischio che le idee non siano roba tua perché se uno è convinto di questa cosa non ha problemi ad aspettare non ha problemi ad aspettare non ha la la fola a doverlo fare in fretta ma se comincia a dire a vedere degli infanti che hanno un'età in cui dovrebbero occuparsi di giocare e cominciare a imparare le prime nozioni di base cioè le scuole essere già bombardati da determinate botte ideologiche no 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 perché hai detto lì la puzza della manipolazione c'è chiudo anche se devo tornare un attimo indietro alla botta di genio perché la mamma dei fessi è sempre incinta poi dopo questo un piccolo consiglio cinematografico anzi più che cinematografico di una serie Fedez Fedez è riuscito nell'impresa titanica in una situazione così in cui per così dire uno dei chi ti ha creato problemi è adesso con la pancia scoperta e uno in gamba gli andava dentro appunto uno in gamba Fedez era lì nel suo podcast tra l'altro io ringrazio Sbortus per l'idea me l'ha passata Jack noi abbiamo già un podcast nel mio paese però è un po' diverso è molto è più simile a quello che si vede alla zanzara però è l'abbonamento quindi però la tua idea vedremo se possiamo metterla in atto certo mi piacerebbe anche fare delle live magari utilizzando proprio discord per riuscire a gestire la cosa come fanno gli amici in alfraghi quando vado in live da loro in cui vorrei che ci fossi presente anche tu vorrei che ci fossi presente in alfraghi Greg e anche tu in una live magari gestita su discord per avere anche qualcuno che appunto dovresti avere più o meno l'età di mio figlio Leon più grande forse sei più giovane ancora di Leon quindi però l'idea mi piace ti ringrazio per averla passata già che lui me l'ha passata è una cosa che vedremo di studiare come farla però ti devi in cambio di questa idea ti ho detto se riusciamo a organizzare una live in tempi brevi la situazione qua è quella che è mi piacerebbe che ci partessi passi anche tu oltre agli storici amici Greg in alfraghi e comunque ti considero un bravo ragazzo quindi ho molta stima di te ne ho molta meno di altri ad esempio che fanno quello che fai tu ma lo fanno forse non tanto di pancia ma con forse un atteggiamento un po' supponente su certe cose tu invece sei molto equilibrato ora dopo la giulinata sbordos scusatemi perché Fedez è riuscito a fare una vaccata così la sua trasmissione tira fuori l'immagine di un suo ether ovviamente con le frasi da grosso o io te faccio questo o te faccio io dico sempre ma state zitto che io non so mio fratello se mio fratello ti dà una sberla devono andare sul Kilimanjaro per recuperarti eh devono prendere l'aereo e andare sul K2 non anche per voi sarebbe un problema tanto siete quelli che parlano di inquinamento di non inquiniamo il pianeta è andata a fare i party con l'aereo personale notoriamente suppongo che abbia i filtri anti inquinamento non ce li ha ve lo posso assicurare ma solo che la persona che lui mostra non è l'eter cioè non è quella persona che lui dice è un'altra persona che non c'entra un cazzo cioè lui smerda una persona che non c'entra niente e questa giustamente si è rivolta ai legali per tutelare se stessa ma dico siamo sempre qua hai fatto una cazzata Fedez succede a tutti vuoi fare l'uomo l'uomo è quello non fare il grosso fare quello di ah oh vieni qua perché ve l'ho detto se ci vengo io con problemi che ho le prendi anche dai micini che c'ho qua lo sappiamo come sei messo cioè non voglio essere cattivo però porca miseria offendi una persona se vuoi veramente dimostrarti una persona in gamba vai e dici cazzo ho sbagliato ho fatto una figura la coglione mi dispiace ci ho messo in mezzo non c'entra niente tu non ne sei capace perché quando attaccano tua moglie posto che non è ancora d'accordo tu cosa fai la butti in cacciara noi abbiamo fatto questo ma cosa vuol dire cioè non è che perché tu hai fatto una cosa buona annulla il fatto che l'hai fatta una sbagliata i santini van benissimo ma la mentalità è quella è quella del PD latrina che c'è adesso a tutti i santini bene dicevo cioè qui il problema però è questo adesso purtroppo mi spiace mi spiace frase fatta scusate comunque adesso ancora problemi di salute ma ti sarebbe costato poco una volta che hai scoperto che hai fatto una figura di merda chiedere scusa perché è quello lì che ti distingue dall'essere un vero un vero uomo una vera persona con le palle o un sottone alla Tomasi 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 non è un uomo Tomasi è un pappagallo un pappagallo woke come il pappagallo che ogni tanto fa vedere Greg solo che quel pappagallo lì è una creatura simpatica bella intelligente che ripete le cose a nastro la stessa cosa a Tomasi solo che non è bella simpatica intelligente vabbè scusatemi scusatemi la cattivea ma veramente quel video mi è capitato di rivederlo recentemente e di rivedere appunto la reazione di Mr. Massi e come fa il d'art a Mr. Massi porca Mr. Alino siamo a dei livelli non solo Mr. Massi quella di Twina quella di Sborso lì siamo a dei livelli di indecenza woke raramente riscontrabili un fanatismo così paraocchiuto è difficilmente riscontrabile va bene chiudo dopo un'ora e quattro minuti che vi ho rotto le balle ma volevo sfogarmi un po' anche per il così libero anche un po' di tossine con un consiglio un consiglio per chi ha la piattaforma del sorriso parlo della piattaforma dello streaming video della piattaforma del sorriso così non gli faccio pubblicità anche perché se va avanti così tra un po' quella piattaforma c'era di grossi problemi adesso c'ha i casini sulla piattaforma viola perché quelli cambiano le norme della mattina alla sera a un certo punto l'ha fatta diventare un lupanare di seconda mano pareva la versione sfigata di OnlyFest poi hanno ricambiato ancora le regole perché c'è un altro dentro del tutto letteralmente sembrava diventato la fiera della regola 34 dei fumetti zozzi nippo ecco e sono quelli che stanno già almanaccando e preparando e non le voci che stanno arrivando non sono propriamente positive la nuova stagione degli anelli del podere è giusto quello deve andare e mi preoccupa però come dire ogni tanto ne beccano una e mi riferisco alla serie di Richard due stagioni otto puntate per stagione quindi non è lunghissima le puntate durano circa 50 minuti quindi azione pura fronzoli zero personaggio perfettamente scritto perfettamente azzeccato tra l'altro bravo in questo senso la piattaforma a mostrare anche i libri da cui è derivata la è derivata la sono derivati gli episodi cioè leggermente un libro per gli otto episodi in due stagioni sono due libri ma io vi consiglio di leggere e comunque recuperare l'opera del creatore di Richard perché se vi piacciono i romanzi d'azione con una componente abbastanza energetica abbastanza forte abbastanza hardboiled se vi piacciono polizieschi costruiti bene senza arzigogoli non si parla di elucubrazioni mentali ma di soluzioni semplici cioè se cammina come un anatra se fa qua qua e così è un anatra non sta a pensare che sia un unicorno ecco questa è una serie che fa per voi il protagonista è centratissimo anzi io sono sincero spero che se qualcuno lo guarda bene questo attore non mi ricordo anche il nome ma è assolutamente irrilevante sperate che lo recuperano un secondo ecco il protagonista è Alan Richt non scusate mi si è inceppato io giuro lo vedrei benissimo nella parte di Blaskovitz dovessero fare un live action su su Wolfenstein sulla saga dei videogiochi della Bethesda perché ha proprio la faccia giusta cioè Blaskovitz è uno dei nostri biondo occhi azzurri mascella squadrata armadio armadio 480 ecco la descrizione è quella cioè è perfetto è un armadio 480 uomo d'azione non è un imbecille faccio notare anche questo non hanno messo lì il classico stereotipo del gonfio grande e grosso come un elefante che non sa fare una O neanche utilizzando un bicchiere il cervello ce l'ha non è uno che fa i pipponi se c'è da mena a mena la serie è estremamente hardboiled per non usare il termine che magari cioè questo picchia i cattivi i villain non fanno una bella fine non è che li tratta con i guanti cioè li tratta per quello che sono siete dei grandissimi sacchi di letame io vi tratto come i sacchi di letame non stanno a far non sta a far filosofia le storie sono strutturate bene e anche qui i personaggi femminili sono personaggi tostissimi senza che ci sia bisogno di buttare dentro la solita melassa puzzolente effetti dall'evokismo americano si può costruire un personaggio femminile forte deciso tosto capace di decisire assolutamente autonomo senza doverci buttare dentro il solito letame propagandistico e lì è tutto perfetto le stagioni vanno via come l'acqua fresca non ci sono pause non ci sono pipponi non ci sono dialoghi in cui ti spiegano il mondo non ci sono messaggi ideologici di staminchia che ti devono per forza infilare dentro i personaggi sono quelli lì sono solidi compatti e viva Dio c'è dell'azione c'è della logica c'è della logica nei comportamenti io ho una cosa che mi ha sempre fatto ridere sono le stronzate va bene contestualizziamole negli anni 90 in cui il marzialismo eroico era il top tutti i film da Van Damme soprattutto più che Schwarzenegger e Stallone erano i marzialisti alla Van Damme o alla Steven Seagal che te la menavano con la storia del combatti da uomo metti giù l'arma e c'era sempre il cattivone minchione che metteva giù il ferro qui abbiamo un tizio che se ti dice se gli dicono combatti da uomo metti giù l'arma lui te la scarica addosso non è che la mette giù te buca cioè reagisce come reagirebbe qualsiasi persona dotata di un quoziente intellettivo superiore a quello di un petto di una capra porca miseria ma meno male cioè veramente mi ha fatto venire in mente una battuta che c'è in Resident Evil 4 non i film parlo del videogioco parlo di quello originale non il remake parlo di quello originale in cui c'è lo scontro tra Krauser e Lyon prima che arrivino lo scontro diretto il combattimento tra loro due che tra l'altro per chi volesse rigiocare l'originale consiglio spassionato se lo state giocando a difficoltà più elevata per segare Krauser alla fine usate il coltello schivate il suo primo attacco in salto quando è lì giù cominciate a tirare fendenti il coltello gli fa più danni che tutte le altre ami magnum inclusa a meno che non abbiate sbloccato la Chicago Typewriter cioè ma quello lì vuol dire che avete già finito una volta la run il coltello gli fa un sacco di danni e dicevo c'è lo scambio di battute con un caso gli dice vieni fuori combatti da uomo gli dice mica sono scemo e lo hai fatto a me stavo scherzando cioè per dire questa battuta è meno 3 di quello che sembra perché sarebbe una cosa logica dico cioè hai un vantaggio lo usi cioè ma io ce lo vedo che dice mio fratello che magari in mano il ferro mettilo giù fammi vedere quanto sei bravo con le arti marziali e lui prima ti fa saltare tutte le articolazioni poi dice adesso ti faccio vedere come sono bravo nel campo come sono bravo col Krav Maga ma cazzo mi frega me di essere ma stiamo scherzando quelle scemenze sono tipiche di una certa mentalità muscolare del marzialista degli anni 90 in cui si esagerava tutto ecco questo qui abbiamo finalmente un altro che dice oh io me ne sbatto le balle di mandarti dentro sei un tale sacco di guano che io te prendo e te buco te prendo e te buco quello che fa cioè il finale i finali sono spettacolari il finale della seconda stagione non è solo spettacolare ti pievi a ridere ma non nel senso cattivo della cosa perché vedi finalmente qualcuno che non si fa i segoni cioè allarme spoiler lo dico allarme spoiler nel caso cioè il cattivo che tra l'altro è interpretato dal nostro ammettissimo Terminator 1000 è un po' immecchiato è ovvio però il fatto che è il cattivo che gli dice no no non buttarmi giù te dico e lo buttano giù dall'elicottero cazzi suoi chi ti dice che mi serve l'informazione lo buttano giù vanno a beccare o stronzone che deve comprare le robe che fanno boom questo si mette a fare la classica filippica stile leguleio e in quattro gli scaricano addosso tutti i ferri che hanno o fanno diventare una forma de mental talmente bugato i due che si è sopportato cioè l'ingegnere doveva spiegare come montare certe cose e il pilota gli dicono si no ma vi lasciamo andare questi vanno salgono sull'elicottero una della squadra viene fuori con il lancio a petardoni e gli attira l'elicottero lo tira giù e ciao anche quelli ciao i tre puzzoni del senatore che dovevano far poi ripulire tutte le tracce no e che si tirano fuori i ferri dicendo adesso io non ho mica chiamato soltanto il senatore e intanto arrivano quelli dei servizi segreti l'online security i servizi segreti che intanto li porteranno questi stronzoni qua il senatore a fare un giretto in qualche stanza buia perché tanto il posto lì c'è un'isola vicina in cui c'è una zona che si chiama Guanta che non è Guanta la mera in cui si portano ne caga cazzo soprattutto se sono politici e gli si spiega che le stronzate che diceva Ceni in merito e Bush in merito al fatto che certe cose le potessero fare tanto non erano in suono americano cioè belle, secchi, diretti, duri storie solide vi raccomando comprate anche i libri perché vale veramente la pena leggere anche i libri storie solide ben scritte e ben sceneggiate la serie sta andando da Dio perché in Italia è il primo posto tra le serie viste negli Stati Uniti sta andando da Dio e non soltanto negli Stati Uniti perché dove la stanno trasmettendo è sempre nei primi posti ha un difetto non è uochista non è imbottita di messaggi di merda non è imbottita di fanatismo e quindi qual è la reazione eh questa serie in cui c'è l'uomo eh sì finalmente abbiamo una serie in cui c'è un atto una figura maschile che non sembra l'ultimo degli zerbini e magari dovreste capire perché questa serie funziona perché la gente vuole vedere questo e non mi riferisco solo al pubblico maschile mi riferisco al pubblico in generale mentre invece appena è uscita la stronzata detta dalla futura regista dell'ultimo Star Wars perché sarà l'ultimo perché dopo questo non si riusciranno a fare un più un cazzo perché anche le serie che vogliono fare dopo questa roba qui stanno già hanno tutti il culo stretto come quello di un picchio perché se va a fondo va a fondo tutto e stava a litigare addirittura con George Lucas vabbè dopo che questo ha detto io voglio fare gli uomini devono sentirsi a disagio tu la serie l'hai già uccisa il fil l'hai già ucciso ma non sto dicendo così giuro mi è capitato di vedere uno short di un youtuber italiano che ha detto io quel fil mi invito a non andare a vederlo può essere anche il più bel fil del mondo ma fatto da una che ragiona così io il fil non lo vado a vedere quel fil andranno a vederlo soltanto i legionati walkisti ma io non vado a vedere un prodotto di intrattenimento perché non mi deve fare due maroni con la sua ideologia profondamente fanatica dogmatica ista e guasta di base è totalmente intollerante questi hanno la tolleranza veramente dei seguaci del grande fratello e vengono qua dati lezioni di etica ci c'ho una cosa deve importarla se tu vuoi rispetto tu devi rispettare se tu vuoi portare le tue argomentazioni e devi ascoltare in quelle degli altri il problema è che gli altri le argomentazioni le hanno tu le argomentazioni c'hai lo zero assoluto c'ha più argomentazioni la scorreggia di una balena di quanta argomentazione avete nella testa tutti voi messi insieme però su una cosa siete bravissimi siete fanatici siete talmente fanatici ottusi che tra voi e le paperelle che camminavano portando agli stivali è un abbigliamento molto scuro la differenza è proprio l'abbigliamento quelle almeno si vestivano con dei colori neutri voi parete l'arcobaleno nel circo ciao a tutti ciao a tutti